Le mura in cui sono costuditi questi libri e questi documenti, questi muri hanno memorizzato enormi etroci sofferenze da parte delle persone che erano qui, più che ricoverate, recluse. Quindi a me fa piacere che questi libri e queste carte che raccontano un percorso vitale siano costuditi in uno spazio che non è più uno spazio di sofferenza ma uno spazio di cultura. Nell'anno in cui ricorrono i 40 anni dalla legge 180 alla legge Basaglia che decretò definitivamente la fine dei manicomi italiani, la sede dell'Università di Arezzo riceve un'importante donazione da parte di Martino Pirella, figlio di Agostino Pirella che assieme a Basaglia fu il protagonista della rivoluzione che portò alla chiusura dei manicomi. Mio padre è stato direttore dell'ospedale psichiatrico di Arezzo dal 71 proveniendo da Gorizia dove l'esperienza goriziana di superamento dell'ospedale non è andata proprio come ci si aspettava, insomma è stato un primo tentativo ma che è andato così così. Invece Arezzo è stata la prima vera esperienza in parallelo a Trieste con cui si è sperimentato sul campo il superamento e il rovesciamento dell'istituzione manicomiale. Beh, questo archivio in realtà raccoglie tutta la sua vita, mio padre era uno psichiatra in termini professionali, in realtà era un uomo, era un intellettuale sostanzialmente, quindi il suo archivio, la sua biblioteca è spazia da tematiche di ogni genere, la politica, la filosofia, la musica, la cultura, i fumetti, la letteratura, la psichiatria ovviamente. Sull'altro lato della stanza ci sono i faldoni, questa è la parte biblioteca diciamo così, questo lato invece raccoglie la parte, proprio archivio, i documenti di lavoro. Questa cosa corrisponde anche un po' a una preoccupazione che mio padre aveva del fatto, ma dopo dove finirà tutta la mia roba? Io mi sono impegnato con lui, dico guarda stai tranquillo, me ne occuperò. E così il campus del Pionta assieme all'archivio storico dell'ospedale neuropsichiatrico di Arezzo sarà un importante centro di documentazione. Abbiamo acquisito il materiale e lo stiamo catalogando, il tutto sempre in accordo con la vigilanza della soprintendenza archivistica e bibliografica per la Toscana che sostiene il nostro lavoro e ci segue, come dire, abbastanza da vicino perché regolarmente funzionari della soprintendenza vengono a verificare la bontà del lavoro che stiamo svolgendo. Stiamo ipotizzando anche percorsi di restituzione alla cittadinanza. L'Ateneo di Siena ha stanziato un totale di circa 30.000 euro per studiare l'archivio Pirella, per catalogarlo, per valorizzarlo. E quindi c'è un investimento forte della nostra istituzione nei confronti di una memoria fondamentale per questo territorio. Grazie. Grazie.